Start, 2, 1, boost, ignition, and lift off! Loro avevano tradotto in italiano il vecchio gioco Pain's Creek Killings che è attualmente il migliore investigativo che io abbia mai giocato in vita mia e lo consiglio a tutti. Molto bello da prendersi un block note e spendersi gli appunti. Qua siamo su qualcosa di un pochino più complicato. Immaginate una scena del crimine, subito dopo il crimine la scena viene frizzata e voi dovete entrare e trarre le vostre conclusioni. Partendo da chi è la vittima, chi dei presenti è morto, chi è stato l'assassino e perché. Ma ve lo faccio vedere perché è più semplice. Io adesso ho giochicchiato queste due che sono la prova iniziale. Allora, premetto anche che sarebbe un delitto spoilerarvi una qualsiasi cosa dato che sono casi fini diciamo a se stessi e dopodiché una volta finiti sapete già chi è il colpevole. Poi magari riprendete in mano il caso dopo qualche mese e non vi ricordate più nulla ma cos'è successo ve lo ricordate. Quindi cercherò di non dire assolutamente nulla. Qua abbiamo il gioco questo in inglese, ecco ci tenevo a dirlo. Non mi sorprenderebbe che un giorno venisse tradotto però io vi dico per il ritmo ve lo godete anche in inglese se ci capite qualcosina. Però se volete aspettare magari ma magari anche no. Non lo so. Questa è dicevo è un vi vengono dati qualche documento che viene recuperato dalla polizia in un piccolo caso e non siete neanche sulla scena del crimine siete in una sala prove prove non di musica insomma sala delle prove e dovete trarre delle conclusioni. Mentre invece la prima diciamo il primo banco di prova è il quarto piano di questo edificio dove in tre appartamenti succedono delle cose si va da un omicidio all'interno un altro omicidio durante una cena e un omicidio durante una festa tra studenti. Ora Non saprei nemmeno io da dove partire quindi credo che potrei partire da questo o da questo uno dei due Cerco di fare quello meno con meno scene diciamo Così vi spiego un attimino come funziona Allora praticamente non durerà durerà molto poco questo video perché Voglio essere proprio giusto una presentazione di quello che ci si aspetta da questo gioco cioè quello che il gioco si aspetta da noi insomma Allora in sintesi noi arriviamo adesso qua ha fatto una laggatona Arriviamo in questa scena del crimine Allora qua è avvenuta tra l'altro la prima il primo caso Qui avviene il terzo e che è un piano sfortunato In sintesi quello che noi vediamo sono Dove era la vittima Cos'è successo E vediamo anche che qui sono tutte chiuse le porte quindi sappiamo che la zona è qui All'interno di questa zona troveremo sia dei particolari Che magari possono essere Visti Cliccati Io cerco di non far vedere nulla perché Ci sono dei particolari che poi potrete vedere in questo bicchiere che non voglio che vediate Però ho notato anche delle cose con cui non potete interagire Come ad esempio questo posto sembra essere mai stato utilizzato Perché la scena non si capisce bene quando viene fermata la scena ma in pratica c'è il morto che cade Fa cadere la sedia e gli altri si alzano e qui sembra non esserci mai stato nessuno Ci sono elementi come lettere, buste, indirizzi, numeri di telefono, riferimenti, borsette di non si sa chi Il gioco poi ci informa che abbiamo trovato anche questo oggetto che viene rinvenuto dalla polizia E sembra creare degli effetti collaterali Fino ad arrivare al punto in cui adesso qua abbiamo la situation che ci spiega cosa è successo Mentre gli exam question non ve le faccio vedere perché sono delle domande E le domande dovete rispondere testualmente E probabilmente nella mia partita ci sono già le risposte che sono quelle giuste Quindi non ve le faccio vedere Però in sintesi quello che vi chiedono è Chi è stato ucciso, chi è stato, chi era presente quella sera e così via Ed è intrigante perché questo è un caso che ha meno spoiler a vista Però potete addirittura andare nel caso della porta di là del 401 Addirittura potete seguire delle impronte magari E capire qual è stato il percorso di una persona Capire che cosa è successo Qua abbiamo cercato di capire se tutto combaciava con quello che abbiamo raccolto Su scontrini, su ricette, congetture su che cosa hanno mangiato Chi poteva mangiare, cosa non poteva, chi ha mangiato Chi non poteva mangiare determinate cose Se le ha mangiate o meno E alla fine si arriva a capire e a dare un possibile movente per un omicidio A uno dei commensali all'interno della stanza Qua mi sto avvicinando a nulla Ci sono i pacchi, ci sono i biglietti d'auguri Capirete chi è chi Farete le congetture su il grado di parentela o amicizia Se c'è amicizia o parentela tra due persone presenti a questo tavolo Farete congetture Di solito io chi festeggia il compleanno si mette in quel posto lì Piuttosto che in quel posto là Noto che qui c'è una macchia di qualcosa Quindi potrebbe essere che Oppure scoprite una seconda vita di una persona Una vita nascosta Con degli scontrini, con dei riferimenti E alla fine arriverete a dire Come succedeva anche in Painscript Killings Direte Wow ma allora Questo cambia tutto Basta un solo documento, un dettaglio e vi cambierà Ovviamente dovete avere la voglia di investigare Passare una o due ore sul caso e cercare di capire È un gioco che vi può creare anche immense delusioni Perché sicuramente sarà così per i primi casi Perché trarrete le vostre conclusioni Darete le risposte e saranno tutte sbagliate Poi c'è una modalità che vi consente anche di vedere a cosa avete risposto male E capirete che avete sbagliato tutto e non l'avete interpretato Ma quello vi aiuta a prendere meglio il caso successivo E spenderci più tempo Ovviamente vi può andare bene, vi può andare male Cioè acquistate il gioco 24 euro, 23 euro, quello che è E magari non siete portati per quel tipo di gioco Non riuscite a rispondere a nulla, vi bruciate tutto il gioco Però se vi piacciono gli escape room Le investigazioni Fare congetture, fare ipotesi Il gioco vi fornisce tutti i dettagli di cui avete bisogno Per arrivare a una conclusione Se non vi quadra qualcosa che vi sembra di tirare a caso Riesaminate la scena Riesaminate, prendete i vostri appunti Segnate Ecco, questa è la base del gioco Addirittura io sono andato fino al punto di guardare cosa c'era qui Perché volevo vedere se combaciava tutto Cioè uno dice Ho comprato una cassa di vino Ok, la cassa di vino è qui Quattro bottiglie sono qui Due sono qui Questa è aperta Sembrerebbe aperta Perché? Perché se guardo questa Vedete che è chiusa Quindi è chiusa Avevano preso anche del vino bianco Ma l'hanno usato Non l'hanno usato No, sembrano chiuse Qua c'è una ricetta Qua c'è Segno di C'è Appunti anche scritti qui Cioè Ci sono tutti i dettagli Per scoprire E questa è una storia veramente interessante Perché All'inizio non sapete Né chi è morto Né chi Vabbè ovviamente l'assassino E non conoscete neanche Chi c'era Lo risalite in base ai messaggi Che trovate in giro Che avevano lasciato loro I bigliettini E gli appunti vari Mentre invece Per dire nel terzo caso Che è quello della 403 Ci sono le testimonianze Degli studenti alla polizia A domicilio avvenuto E dovete far combaciare Le loro interviste Diciamo con questo Con la polizia Con gli oggetti Che trovate all'interno Con le mail nei computer E così via Diciamo che Questa è la base Di Silence Investigator Che A mio parere Insieme a Prince Creek Killings Sono i due giochi investigativi Più belli Che abbia mai provato Poi se voi ne conoscete altri Intriganti Magari in italiano Fatemeli sapere Ma al momento Che io sappia Per la mia esperienza Che è anche abbastanza ampia Come esperienza Nei videogiochi Mi sembrano essere Gli unici giochi Di questo tipo Ci sono giochi simili Ma sono più escape room Non di intuizione Non di ragionamento Di conclusione Però Se voi conoscete altri giochi Fatemelo sapere Intanto Spero di avervi fatto Cosa gradita Di avervi portato Questo titolo Così da vedere Senza spoglierare nulla Per rispetto appunto Dell'opera Di questi sviluppatori Spero arrivi in italiano Domani Posso farvi vedere questo Vedete che qui Tradurre questo È un attimo Poi premendo il tasto R Viene tradotto Ed è una cosa Un po' così Perché a volte Sembra che Quello che non viene tradotto C'è tutta questa ricetta Che non viene Trascritta qui a lato Vi fa capire Che non è importante E quello è un po' un peccato Perché alla fine Aprite quella schermata lì Però giusto per capire Per farvi capire Io clicco qui Vedete che io Premo e mi esce Il riassunto di tutto Cioè non è tanta La roba da tradurre Quindi Basterebbe anche solo Magari gli sviluppatori Lo faranno in futuro Però vi ripeto Rispetto a tanti altri titoli Dove parlano veloce Dovete leggere veloce Capire veloce Qui vedete tutto il tempo del mondo E quindi la lingua Dal mio punto di vista Non è assolutamente un problema Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Anche E sono molto interessato Questo se conoscete Altri giochi simili Alla prossima E ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti